Nella vita bisogna essere sinceri e quindi diciamolo, l'ammortizzazione di queste scarpe fa davvero godere. Ma prima di cominciare con la recensione completa, mi presento, sono Marco Duva, esperto di scarpe da basket e fondatore di YB International Young Ballers, una delle community online sul basket più grande in Italia. Probabilmente cercando un nuovo paio di scarpe da basket e cercando informazioni sei finito anche involontariamente sullo scarpometro YB sul nostro sito web. Per te che ci sei finito spero che sia stato utile, ma per coloro che non sanno di che cosa si tratta lo scarpometro YB è uno strumento totalmente gratuito che trovi sul nostro sito web e il link lo trovi ovviamente in descrizione, che ti aiuta in pochissimi secondi a scoprire tutte le scarpe da basket adatte a te e al tuo stile di gioco. Tra l'altro c'è anche uno sconto molto interessante per chi accede allo scarpometro. Ma banda alle ciance, come sempre partiamo dalla trazione. La trazione di queste GT Jump 2 garantisce grip multidirezionale eccezionale sia sui campi puliti che su quelli più sporchi. Unica pecca è che il pattern di trazione tende ad usurarsi molto molto in fretta outdoor, quindi non ti consiglio di acquistare queste scarpe se stai cercando un paio da utilizzare principalmente al campetto. Passando invece al sistema di ammortizzazione, in questo caso ci si diverte davvero tanto perché è composto da ben tre tecnologie diverse, di cui due sono davvero molto molto simili. Andiamo per gradi. Nell'area del tallone abbiamo la schiuma Nike React. Nell'avampiede abbiamo due unità zoom made, mentre a tutta lunghezza abbiamo un'unità zoom strobel. Come puoi immaginare, nell'area del tallone, comfort e riparo dagli impatti sono assicurati dalla schiuma Nike React, che è ad oggi la schiuma top di gamma di Nike, che oltre ad essere super confortevele e ad offrire un'ottima compressione, è anche molto veloce e offre un ottimo rimbalzo. E tra l'altro, cosa da sottolineare e da tenere assolutamente a mente, la schiuma Nike React è anche molto molto resistente nel tempo. I più esperti di scarpe da basket, guardando le due unità zoom made qui nell'area dell'avampiede, avranno sicuramente pensato alle vecchie Freak 3 o Freak 4, ovvero le scarpe di Yanis Antetokounmpo, che presentavano le stesse unità proprio qui nello stesso identico punto. Solo che in questo caso sono più voluminose e offrono anche un ottimo rimbalzo. Se sei tra quelli che si stanno chiedendo come è composta la tecnologia zoom made, si tratta di cuscinetti, di capsule oppure di piastre che vanno a tutta lunghezza, e in quel caso si chiama zoom strobel, che è presente tra l'altro in questa scarpa, che al loro interno hanno aria pressurizzata e dei filamenti elastici che hanno la capacità di comprimersi ed espandersi in maniera molto veloce, donandoti una spinta in più in tutti i tuoi movimenti di gioco, come il salto, la corsa e così via. Per non farsi mancare nulla, Nike ha deciso, come ho detto anche in precedenza, di aggiungere una piastra a tutta lunghezza zoom strobel. Questa tecnologia è presente anche per esempio nelle KD15 e offre davvero un ottimo rimbalzo e anche una buona reattività. Passando invece ai materiali, bisogna sottolineare un'altra tecnologia di Nike, ovvero l'Engineered Mesh, sarebbe il Mesh ingegnerizzato in italiano, quindi un Mesh 2.0 che risulta essere molto più performante rispetto a quello classico che trovi per esempio nelle Nike J1. In più rispetto a quello classico è più leggero, più resistente, si adatta meglio al tuo piede ed è anche molto più traspirante. Infatti ci sono molti più fori che hanno la capacità di lasciare il calore durante il tuo gioco e che quindi manterranno il tuo piede fresco e soprattutto asciutto. Nonostante le Engineered Mesh ma anche la schiuma Nike React risultino essere molto molto leggeri rispetto a tanti altri materiali, il peso di queste scarpe rimane comunque abbastanza elevato. Infatti nella taglia 47 europea pesano circa 520 grammi. Ti ricordo che per segnalare il peso delle scarpe da basket si prende come riferimento il peso di una sola scarpa e che ovviamente il peso aumenta o diminuisce in base alla tua taglia. Guardando queste scarpe scommetto che anche tu ti sei chiesto cosa fosse questa piastra che parte qui dall'area del tallone, questa piastra che poi tra l'altro è in plastica dura, continua lungo tutta la scarpa e incapsula le due unità Zoom Air nell'avampiede. Si tratta della tecnologia, un'ulteriore tecnologia che queste scarpe presentano, sono veramente tantissime le tecnologie presenti, che si chiama Jump Frame, che offre un'ottima stabilità laterale e anche un buon supporto torsionale. Ma per quanto riguarda la flessibilità siamo messi un pochino male. Ma questo comunque è un aspetto positivo o negativo, dipende da te e dipende da come sei abituato ad avere le scarpe da basket e se tieni conto della flessibilità appunto della scarpa. Per quanto riguarda il contenimento laterale siamo messi davvero bene, perché a parte tutta la domaglia fatta in engine mesh che è super resistente e aumenta il contenimento laterale, per non farsi mancare nulla abbiamo anche questi due inserti che separano l'area mediale dall'area dell'avampiede della scarpa e in quest'area qui abbiamo anche dei cavi flywire, che aumentano il contenimento sicuramente laterale, ma anche delle caviglie, che è supportato ovviamente dall'heel counter, che è super resistente e molto solido, che tiene in linea caviglie e tallone e abbiamo per concludere il sistema di allacciatura che permette di stringere a proprio piacimento la scarpa, aumentandone di conseguenza il contenimento e il supporto alle caviglie. In termini di calzata finalmente si sente parlare di scarpe true to size, ovvero scarpe che puoi acquistare tranquillamente della tua taglia abituale, in più sono adatte anche a chi ha la pianta del piede leggermente più larga, perché c'è abbastanza spazio qui nel toe box, ovvero nell'area dell'avampiede. Ricapitolando, ci sono almeno sei buoni motivi per cui dovresti acquistare le Nike GT Jump 2. Uno, stai cercando le scarpe di Nikola Jokic, ebbene sì, queste sono le scarpe che Zio Nikola indosserà durante tutta la stagione 2023-2024. E piccola chicca, facci caso, durante i prepartita, Zio Nikola lega sempre la sua fede, quindi l'anello del matrimonio, ai lacci delle scarpe. Due, cerchi un ottimo sistema di ammortizzazione e un ottimo riparo dagli impatti. Tre, non hai bisogno di tanto corfilo, ovvero quella sensazione di sentire il campo sotto i propri piedi durante ogni movimento di gioco. Quattro, sei un giocatore pesante, infatti queste scarpe sono adatte soprattutto, almeno a mio parere, ai giocatori leggermente più pesanti e più statici in campo. Cinque, hai bisogno di un elevato supporta le caviglie e sei, non vadi a spese, perché ti ricordo che il prezzo di lancio di queste scarpe è di 220€, che comunque, secondo me, li valgono tutti perché sono presenti davvero tantissime tecnologie, sono scarpe davvero performanti e super interessanti. Ma se comunque non vuoi spendere una cifra così spropositata, abbiamo un piccolo aiutino per te, perché le puoi acquistare con il 10% di sconto grazie al nostro codice di sconto esclusivo sul sito di Ipness, che riceverai entrando nella YV Top List. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ovviamente è tutto gratuito. Bene, baller, siamo arrivati alla fine di questa recensione. Se ne vuoi tante altre, metti like a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ci vediamo alla prossima recensione. Bella, baller! Ciao!